La storia della massoneria, soprattutto di quella cosiddetta libera muratoria italiana, ha sempre affascinato l'uomo, ad alcuni ha un poco creato dei timori, ma è per approfondire questo argomento faremo un viaggio nella storia della massoneria e soprattutto nell'attualità. La massa ostiene che le persone più importanti del mondo sono dei massoni. Fa paura, in un certo senso. Per loro, se non è per loro. Chi governa questo mondo? Grande architetto dell'universo. Qualcuno ha fatto fatto tutto questo.